28 maggio 1974 Dopo l'affermazione referendaria al mantenimento di un diritto civile, il divorzio, Piazza della Loggia si fa ancora luogo accogliente, accogliente per chi sceglie di esserci a quella manifestazione indetta contro la violenza eversiva. Ognuno vi partecipa con la sua diversità, di genere, di condizione, di cultura. Una pluralità che si ritrova insieme per riaffermare principi di libertà, uguaglianza e non occorrevano parole per poterli esprimere. Bastava guardarci in volto e sentivi quella solidarietà che va immaginata, costruita e custodita, capace cioè di renderci sensibili alle sofferenze altrui. Poi quello scoppio, quelle morti, quella violenza usata per impedire che tutto ciò possa realizzarsi. Per continuare a condividere quel percorso, da allora, siamo diventati testimoni, ma non perché c'eravamo, ma perché continuiamo ad esserci. Piazza Loggia, 28 maggio 2021 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 Grazie a tutti.